Per noi i volontari Enel sono assolutamente una risorsa, sono quelli che ci aiutano a rispondere al bisogno del territorio. Il volontariato è una risorsa per chi lo fa e per chi lo riceve e quindi siamo ben contenti di ospitare da noi i volontari di Enel. Il volontariato dà l'occasione a tutti noi di contribuire al sociale. Penso che l'esperienza di oggi sia molto arricchente, molto bello poter avere a che fare con bambini. Enel sostiene l'albero della vita da diversi anni, la sinergia tiene il cuore e gli obiettivi del terzo settore può rispondere davvero a quello che è la necessità del territorio, realizzando così un impatto più concreto e reale. Questo tipo di attività mi fanno sentire parte di una grande famiglia.